proseguendo il mio giro per almeno sono arrivate a trovare le signore volontarie della pesca di beneficenza che tutti gli anni in occasione della festa patronale di almeno san salvatore allestiscono questa bellissima fiera di beneficenza pesca di beneficenza questi sono i bellissimi famosi biglietti sia da adulti che per bambini e adesso farò una carrellata guardate quanta bellissima roba che c'è che le signore con tanta pazienza hanno allestito vediamo anche l'altra signora che sta finendo di sistemare le ultime cose abbiamo anche questo adesso dalla parte dei bambini questo reparto giocattoli diamo del reparto giocattoli quanta bellissima roba che c'è la maggior parte nuova bellissimi quanti peluche giochi da tavola già per la scuola pastelli pennarelli bombe d'acqua pistole ad acqua giochi da tavolo tutto questo per una modica somma di due euro a biglietto un'offerta di due euro e il raccolto è tutto per le necessità della parrocchia dell'oratorio e comunque di tutta la comunità un grazie ancora a tutte le signore queste sono solo tre abbiamo anche il nostro franco che è quello che alle aiuta sempre ad allestire tutto e tutti ormai franco è un'istituzione ad almeno dire un plauso davvero a tutti i volontari che tutti gli anni allestiscono questa magnifica festa festa di beneficenza un grazie ancora a tutti e le signore vi aspettano tutti i giorni e tutte le sere solo alla sera adesso mi confermano mi dica pure gli orari non la sto filmando mi dica pure gli orari allora dalle 20 alle 21 21 e 30 ecco la domenica invece vi ripeto se non l'avete sentito dalle 15 giusto dalle 3 del pomeriggio fino alla sera grazie a tutti e vi aspettiamo